Il primo brano che seguiamo, sicuramente non l'ho spiegato, si chiama La donna di plastica ed è la donna di oggi che per piacere e piacersi deve rispondere a 3000 categorie. In realtà la donna quando si piace e piace è in grado di rappresentare tutte le donne che un uomo vorrebbe e tutte le donne gli vorrebbe essere. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.